Lo specchio con DIN Optik, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. Sarà difficile vederti da dietro. Buonasera, quando tempo fa avevamo invitato allo specchio proprio per questa domenica il nostro ospite, ancora non si sapeva che lui avrebbe lasciato la presidenza dell'Udc e che si sarebbe presentato alle comunali di Lugano. Ma come canta Francesco De Gregori la storia non si ferma davvero davanti ad un portone e allora eccoci qui con una pagina di storia e di cronaca in più da raccontare. Ebbene così. Marco Chiesa, buonasera e benvenuto allo specchio. Buonasera e grazie per l'invito, un piacere. Stiamo facendo uno scambio di ostaggi. Allora De Gregori, lei porta Ligabue. Perché il Liga? Sinceramente porto più che altro i miei figli perché questa canzone mi ricorda il fatto che stanno crescendo e che io posso semplicemente accompagnarli in questo percorso. Ogni tanto vorrei che non sbagliassero, ogni tanto vorrei dargli dei consigli che non ascolteranno, però io per loro ci sarò sempre. E glielo dico anche perché so di essere molto spesso via, ma voglio che quando ci sono ci sia della qualità. Ecco, questo è un tema comunque, il discorso di un padre impegnato politicamente, lei per quattro anni presidente, il primo non svizzero tedesco, presidente del primo partito in Svizzera. Ci racconta quelle serate nelle sezioni che lei avrà girato in tutta la Svizzera, dal Ticino a Basilea, da Ginevra a Schaffusa. Come sono quelle serate? Che lavoro è quello? Vuole che l'accoglienza è sempre stata ottima. Poi magari ne discuteremo più avanti su come sono accolti appunto i ticinesi. Ma noi, lo ribedisco sempre, siamo veramente dei costruttori di ponti. Ci sappiamo porre con gli svizzeri tedeschi, ci sappiamo porre con gli svizzeri francesi e loro ci apprezzano per questa qualità. E allora ogni volta che si arriva si scopre anche qualcosa di diverso, le tradizioni di un cantone, quelli che sono i valori anche di questo cantone stesso. La Fed de la Dependence, per esempio, nel Canton Vaux, le Scalade a Ginevra, per passare, non so, dall'Albi Guti, in questo caso, del Canton Zurigo. Però è un paese straordinario il nostro perché, malgrado le differenze, siamo la Svizzera, un paese unito. Però, tornando proprio sul tema dei figli, vuol dire viaggiare tanto, presumo, come presidente, adesso lei a marzo non risolleciterà un nuovo mandato di presidenza. Però uno si fa una domanda quando è in una stanza d'albergo, dopo aver passato una serata nel Canton Turgovia, in mezzo a, non lo so, presumo, certi toni anche accesi, perché la politica è passione, a volte gli animi si accendono in modo anche particolare. Che cosa si prova in una stanza d'albergo quando si è lontano dalla famiglia? Senso di colpa? Senso di colpa no. Io ho sempre cercato, fra l'altro, di portare i miei figli ovunque, laddove fosse interessante che venissero. Mi ricordo, riesco a fare, ad esempio, con Mattias e Micol, due o tre giorni esclusivamente con uno o con l'altro. Mi ricordo che Micol mi ha chiesto di andare a Venezia, quindi siamo andati assieme io e lei. E Mattias invece mi dice, andiamo a Ginevra assieme. Io gli chiedo, perché Ginevra? Perché l'ultimo cantone della Svizzera che hanno ancora visitato. Questo significa però poter stare con loro nei momenti anche riservati e importanti per dirgli che loro padre c'è, ci sarà sempre. Poi la stanza d'albergo è stata una costante nella mia, in questi quattro anni, ho passato più di 200 notti fuori dal canton Ticino e ho passato tante tre di notte. E le tre di notte sono quel momento in cui, non so, magari devi prendere una decisione, non è chiaro quale sia, dove hai un dilemma, dove forse lì non vorresti essere, vorresti essere da un'altra parte, dove il giorno dopo devi affrontare qualcosa di importante, qualcosa che ti fa crescere, ti fa maturare. Ogni tanto ti fanno maturare anche delle decisioni sagge. E quindi comunque la solitudine è una condizione anche di chi vive in mezzo alla gente e per professione politica bisogna esporsi e stare in mezzo alla gente, a volte litigare, a volte è un momento di solitudine. Mi fa piacere che tocchiamo questo tema della solitudine perché sì, ognuno quando dobbiamo prendere decisioni e portarla avanti siamo spesso soli. E lì esce la nostra maturità, esce la nostra capacità di analisi, la nostra consapevolezza, è lì che cresciamo veramente. Quando sei presidente di partito rappresenti e porti con te un'etichetta, non è sempre facile perché poi tu non fai che racchiudere in te stesso quella che è la decisione anche di altri, dell'assemblea dei delegati, magari in contraposizione con una sensibilità del tuo cantone, però quello è il tuo compito e lo devi portare avanti fino in fondo. Quando devi entrare 5 minuti prima della trasmissione Arena, se ne è discusso tanto, soprattutto in Svizzera tedesca, lì sei da solo e sai che avrai tutti gli altri presidenti e dovrai rappresentare una posizione magari proprio in tedesco, che è la loro lingua madre. Se non in svizzero tedesco, ecco, questo tema comunque è un tema per un politico, a volte lei è stato attaccato dicendo non conosce il tedesco, non può rappresentare un partito che è fortemente connotato anche con le zone rurali, tradizionalmente agli anni 70, Zurigo e Berna. Questo tedesco mi ha sudato freddo, come l'ha gestita questa situazione? Lo dicevano soprattutto all'inizio, se ero compatibile con una trasmissione come Arena, che è una grande permessa del dibattito politico, poi dopo hanno smesso di dirlo perché hanno visto quello che ho saputo fare, ma l'ho dovuto crescere io, e quindi questo è stato un insegnamento anche per me, il fatto che bisogna avere costanza, bisogna avere consapevolezza che ce lo si può fare. Il tema del tedesco era per me, soprattutto all'inizio, una questione a sapere se prendere o meno la presidenza, so che il partito è piuttosto germanofono, poi alla fine i fatti mi hanno dato ragione, mi hanno dato ragione nel senso che laddove c'erano dei dibattiti tematici, penso che ci siano anche delle persone più competenti di me, mi hanno assolutamente supplito, non ho portato avanti la linea dove c'erano i presidenti, io c'ero. Devo dire che non era la stessa cosa in Svizzera francese qua in Ticino, perché allora bisognerebbe fare il calcolo di tutte le regioni linguistiche. A me interessava soffermarmi un po' sul tema della lingua, perché ci sono delle parole che per esempio vengono assoggettate ad alcune aree politiche, per esempio la parola gente, ascoltare la gente, siamo vicini alla gente, è diventata una parola di appannaggio più che altro di destra, e quindi volevo capire, poi c'è per esempio il tema dell'identità, anche un tema molto forte per la sua area politica, per la destra in Svizzera, mi chiedevo se appunto le battaglie politiche si fanno anche con l'appropriazione di certe parole, accasandosi una parola si incamerano voti. Io penso che determinate battaglie politiche si possono fare con dei valori, i valori che cerco di portare avanti sono l'indipendenza del nostro paese, la nostra sovranità, quindi l'autodeterminazione, il fatto di decidere noi stessi quello che vogliamo del nostro futuro, ha molto a che fare con la democrazia diretta, questo è un collante su tutta la Svizzera. Poi ci sono le sensibilità diverse, lo dicevo prima, quella della città, quella della campagna, oggi abbiamo una scollatura fra i desideri delle città e quelle che sono anche dei desideri della campagna, l'abbiamo visto in molte votazioni, la votazione sul CO2 è qualcosa che è stato di assoluta evidenza, per quello che riguarda la retorica. Beh, la Svizzera, lo ribadisco ancora una volta, è un paese meraviglioso perché nasce dalla volontà di stare assieme. Io non vedo nessun'altra parte del mondo delle religioni differenti, delle culture differenti, delle lingue differenti che si mescano al meglio come succede nel nostro paese. Allora io quando vedo un turgoviese o quando vedo uno zurichese o uno svizzero francese, lo sento come me, cittadino, svizzero, mio con cittadino. Ed è qualcosa di straordinario, ancorché ci sia un gottardo che divida le regioni linguistiche. Un gottardo che cerchiamo di renderlo un pochettino più veloce nel suo... Certo, quando si va avanti a tornare indietro con i tempi che si allungano non diventa più accettabile. Insomma, una certa proprietà di linguaggio, un'eloquenza, l'è riconosciuta in italiano ovviamente. Chi le ha insegnato ad usare le parole e le parole della politica? Ma fondamentalmente nessuno può insegnarti ad usare delle parole. Io ho sempre pensato che se parli con grande spontaneità e a mio modo di vedere anche realismo, beh, è lì che riesci a creare un contatto con la popolazione o la gente, come abbiamo parlato prima. Ma la gente non è qualcun altro, noi siamo la gente. Mi ricordo che appena eletto al Consiglio nazionale, subito dopo, sono andato sempre nello stesso bar a Lugano, io sono piuttosto abitudinario, e mi hanno domandato, ma te sei ancora qui? E la mia risposta è, perché dove dovrei essere? Io sono di qua, le mie radici sono queste, la mia famiglia è qui e la mia gente è qui. Ma io faccio parte della gente ed è per quello che quando devo prendere delle decisioni penso sempre a cosa è nell'interesse non tanto di un partito. Questo fra l'altro me lo permette molto di più la Camera dei Cantoni. La Camera dei Cantoni si decide in funzione delle esigenze del cantone fondamentalmente. Quello che è un po' di meno è presente la politica del partito che è molto di più nella Camera del Nazionale. E lì si vedono delle alleanze fra i cantoni alpini che hanno delle esigenze vicine o piuttosto sovrapposte. Allora, Marco Chiesa, qui non siamo ad Arena e questo non è un programma di attualità politica. Verranno altri miei colleghi a farle delle domande tecniche e politiche. Ovviamente abbiamo letto sui giornali, io cerco di riassumere in estrema sintesi, poi mi corregga se sono impreciso perché citerò anche qualche sua parola. I punti sono, uno, Marco Chiesa lascia la presidenza dell'Udc perché ha detto di aver raggiunto il suo obiettivo, una crescita in tutte le regioni linguistiche, più nuove seggi in Parlamento e quindi elezioni federali incassate con una vittoria, parole sue. Poi, punto due, mi presento a Lugano perché Lugano è casa mia, voglio far crescere la città, ma non voglio insidiare la poltrona di sindaco. Punto tre, non lascio il seggio agli stati. Punto quattro, non mi interessa la poltrona di consigliere federale. Allora, siamo un po' sulla cronaca, è quello che abbiamo letto in questi giorni. Allora, ma se lei dovesse ad aprile arrivare con 2000 voti di scarto davanti a Michele Foletti, lì la democrazia chiama e lei cosa farà? Ma io le dico molto sinceramente che ritengo che il sindaco abbia fatto un ottimo lavoro e ha una lista a sostegno ed è per questo motivo che ritengo che il sindaco Michele Foletti verrà eletto. Il mio desiderio è di mettermi a disposizione per la città di Lugano in un momento, fra l'altro, dove lo posso fare anche come ponte verso Berna, perché Lugano è una delle città più importanti del nostro paese e credo che debba e possa ritrovare un ruolo importante a livello nazionale e internazionale. Detto questo, lo faccio con una grande motivazione e molto impegno, a servizio di una lista che deve riconfermarsi anche forte, come lo è nei nomi, però senza una personalità straordinaria come era quella del sindaco Marco Borradori. Quindi, sotto questo punto di vista, voglio fare una campagna a favore di qualcosa e di qualcuno che è la mia città e non contro qualcun altro. Per la sua città sì, ma lei è stato scelto dai ticinesi anche per rappresentare il Ticino a Berna. E dai luganesi stessi. E dai luganesi stessi, infatti. Ed è lì una carta che si potrà giocare, perché risulta che un luganese su due ha votato chiesa in ottobre per le federali. Allora, ma come si fa a tenere il piede in due scarpe? Come si fa a fare bene un lavoro avendo una poltrona esecutiva di una città e poi dover andare a Berna? Ma io credo che in questo caso sarebbe veramente un vantaggio per la città di Lugano poter avere qualcuno che è anche nel Parlamento federale, come lo è d'altronde anche Lorenzo Quadri, ma che ha potuto toccare con mano tutta la Svizzera, avere dei contatti in tutto il paese. Perché Lugano non può rimanere una città a sud non legata a tutta un'area come quella, ad esempio, di Zurigo, un'area soprattutto molto interessante anche come quella della Svizzera centrale. E questo potrebbe essere un ruolo fondamentale per poter far crescere e sviluppare le prospettive di Lugano. Perché lo vediamo, il territorio è straordinario, però accanto a noi abbiamo anche una metropoli come Milano. Non vogliamo certo diventare un satellite della Lombardia, vogliamo essere una città svizzera che crea dei posti di lavoro per le persone che qui abitano. Posti di lavoro, io mi aggancio con un tema, lei ha preso posizione, per esempio, sulle 200 franchi, l'abbassamento del canone e il radio televisivo 200 franchi. Dopo aver espresso un'opinione negativa su Nobillag, invece in questa tornata lei si dimostra favorevole. Non ha paura proprio che si possa andare verso un impoverimento occupazionale, anche culturale. Lo chiedo al Consigliere degli Stati che per statuto deve difendere l'occupazione e la cultura in Ticino. E lo chiedo anche al membro di Elvezia Latina, che è un'istituzione che vuole difendere la cultura italofona e l'italianità nelle istituzioni federali e a Berna. Mi ha fatto bene a citare il fatto che io ero contrario a Nobillag. Contrario a Nobillag perché ritengo che noi dobbiamo avere un servizio pubblico forte. Poi qualche critica rispetto all'informazione, lei lo sa che me la permetto, e credo che lì ci sia ancora molto da fare. Però, detto ciò, la questione è a sapere qual è il prezzo da far pagare alla popolazione. Io ho lottato molto, fra l'altro, in quell'iniziativa per poter far sì che la ripartizione rimanesse uguale, ossia che il canton Ticino fosse ancora favorito, perché ci sono dei flussi finanziari che beneficiano la nostra regione. Detto questo, il panorama dei media sta cambiando, a 360 gradi lo vediamo, lo leggiamo sui giornali, e quindi una rimessa in discussione di quello che sarà in prospettiva un servizio pubblico forte, si impone e sarà così anche in futuro, perché non fermeremo la tecnologia e non fermeremo quello che è un cambiamento complessivo di tutto un settore che vediamo già nei media privati. Questo ovviamente è la sua opinione sul servizio pubblico. Ognuno ovviamente può pensarla come meglio crede, io la mia ovviamente, e ci mancherebbe altro. Eravamo d'accordo sull'anno 1000, tutti e due. Ebbè, per forza, per forza. Allora, 50 anni mi risulta, ad ottobre, si passa questo traguardo, se noi riavvolgiamo il nastro, indietro i 50 anni arriviamo al 1974. Famiglia attinente di Viganello, poi lei è cresciuta a Molino Nuovo, è abitato a Villa Luganese, dove è stato in consiglio comunale, e poi anche a Ruvigliana ora condivide la casa con la moglie e i due figli. Allora, ci vuole portare nella sua casa dell'infanzia. Che ricordi ha? Ma io sono figlio come molti di una famiglia di cui i genitori si sono separati. Si sono separati e sono cresciuto con mia madre, che mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno oggettivamente, le sono molto riconoscente. da un lato c'era però anche la figura molto presente di mia nonna e la ticinesità fondamentalmente arriva da lei. Il fatto di parlare il dialetto è grazie a mia nonna. Io la vedevo la mattina che si svegliava e indossava quello che chiamiamolo scusà. Mi portava in quelle vestigia dei posti dove magari si allevavano i piccoli animali. e questo a Villa Luganese, che è Lugano oggi. Questo mi ha fatto molto riflettere sulle nostre radici, su che cosa eravamo prima e su cosa ci piacerebbe diventare dopo. Cosa eravamo prima? Eravamo un paese semplice. Quello. Quello eravamo. I quadri di Ugo Moglia, per esempio, lo individuano molto bene. Quello che siamo stati. Non possiamo dimenticare da dove arriviamo. Poi è arrivato il settore terziario avanzato, è arrivato anche il benessere. Però da lì ci sono dei valori. Ci sono dei valori che è il voler bene al proprio territorio. Questo è quello che voi chiamate anche identità. È chiamata anche identità il valore della famiglia. Personalmente la montagna che mi emoziona di più quando la guardo sono i denti della vecchia. Lì so che purtroppo è deceduto mio nonno, che non ho mai conosciuto. Io provengo da questo territorio e sono fiero di questo territorio. Come sono fiero di tutto il canton Ticino. Ma sono fiero anche di quella luganesità che è stata testimoniata magari alla fine del 1700 quando a un certo punto con i moti di Lugano si è voluto dire noi siamo liberi e svizzeri. Noi non vogliamo partecipare a un'altra entità, magari quella scisalpina. Noi vogliamo creare assieme agli altri un territorio straordinario dove c'è una democrazia diretta, dove ci sono la possibilità di dare l'ultima parola al cittadino. E guardi che questo è qualcosa di straordinario che nel resto dell'Europa non esiste. Forse è per quello che ho maturato anche un certo tipo di refrattarietà rispetto a degli accordi istituzionali. No, l'istituzione per me è il popolo o la gente, come diceva prima. Sono belle parole, ma io ho un po' un'obiezione. Come Presidente del Partito lei avrà assistito e magari anche varato certe campagne di parole. Torniamo alle parole con dei toni molto forti correlati anche ad immagini molto forti. Lei si è mai imbarazzato di fronte a certe frange estremiste dell'Unione Democratica di Centro e di fronte a certe campagne e all'uso violento di certe parole e certe immagini? Imbarazzato no, escluso sì. Nel senso che l'Unione Democratica di Centro è il primo partito del Paese a un programma che viene deciso dai propri delegati. Ogni tanto vengo chiamato dai media e mi presentano delle frange estremiste e mi dicono ma cosa ne pensi di questa frangia qua? Non appartiene assolutamente a quella che è una traduzione, a una cultura di un partito che vuole essere democratico, che è democratico, che fa parte delle istituzioni con due consiglieri federali. È il primo partito in termini di mandati anche nei parlamenti cantonali. Quindi tutti questi estremismi non li accetto. Se poi stiamo parlando invece di una provocazione, beh, la provocazione è utile per smuovere delle coscienze. Le provocazioni sono utili per creare un dibattito. Io ho delle perplessità quando vedo che solamente il 50% della popolazione vota. Votare è un privilegio. Ci sono dei cittadini in Europa che non votano mai e che non hanno possibilità di esprimersi. È un po' peccato non prendere questa opportunità. E guarda che noi votiamo sulle corna delle mucche come l'adesione o nello spazio economico europeo. È una libertà, ovviamente, sacra che dobbiamo difendere. ovviamente il diritto di voto e che libertà c'era all'interno di un'istituzione, di un partito dominata dai blocher, da Christophe Blocher, per esempio, un ticinese che, come lei, che libertà d'azione e anche di dissenso poteva avere e maturare all'interno dell'Udc. Christophe Blocher non è mai stato presente alle nostre discussioni. L'Assemblea dei delegati, che è il sovrano, se si vuole, dell'Udc, ha dato mandato a nove persone. Queste nove persone, di cui io sono presidente, con altri tre vicepresidenti sotto di me, hanno deciso tutta la linea politica, come implementare la linea politica del partito. Non c'è mai stato bisogno, se non in casi estremamente particolari, per poter consultare quella che era la sua esperienza, di avere un Christophe Blocher che dettasse lui la linea. La linea è chiara, la linea per quello che attiene a che cosa vogliamo nei rapporti con l'Unione Europea non cambierà. Un approvvigionamento energetico sicuro, come abbiamo già avuto più volte modo di richiedere, è questo. L'Udc è quel partito che oggi, a livello di liberal conservatorismo, vogliamo favorire la crescita dei piccoli imprenditori, che è la colonna vertebrale del nostro Paese, però mantenendo quelle straordinarie qualità del nostro Paese. E' questo che facciamo. Quindi non c'era bisogno di Christophe Blocher. In un'occasione, in un paio d'occasioni, il suo consiglio è stato assolutamente prezioso, però sto pensando, ad esempio, alla crisi del Credit Suisse. lui aveva già vissuto in passato delle situazioni analoghe, lì si è presentato dicendo secondo me qui c'è stato un grossissimo problema di gestione, soprattutto a livello internazionale, dove dovremmo fare modo di avere delle leggi dove tuteliamo il nostro Paese. Ha creato una grossa discussione fra di noi una grossa discussione nel Paese e era assolutamente benvenuto. Poi in alcuni video ironici va detto, abbiamo visto un Christophe Blocher invece spiritus rector del partito, un duro e puro che riunisce in un bunker tutti i suoi generali politici e devono discutere, mi ricordo questo video, era uno spot di campagna politica e dovevano... Piano segreto dovevano discutere. Piano segreto per salvare la Svizzera. Alla fine discute Blocher con tutti i suoi generali a chi lo affidiamo e pensano a Marco Chiesa. Stacco su Marco Chiesa, viene visto con degli occhiali stile Italo Disco anni Ottanta mentre sta ozziando al sole e forse compare anche a una pizza, beve il caffè e risponde alle lusinghe di una bionda che lo chiama Svizzera tedesca. Svizzera tedesca. Ecco, questo ovviamente era uno spot ironico ma la domanda è nasconde al di là delle dinamiche interne al suo partito una verità e cioè che alla fine i padroni sono gli svizzeri tedeschi e i ticinesi sono i vassalli latini. No, non lo credo veramente per nulla questo. Dobbiamo un po' scrollarci di dosso questa immagine che poi rispetto agli svizzeri tedeschi noi magari non godiamo della stima. per me per quella che è la mia esperienza non è assolutamente stato così male potrei citare tantissimi amministratori delegati quindi numeri uno di aziende che sono ticinesi penso che uno è estremamente noto da Ermotti al CEO dell'Axal a quello della posta a personaggi straordinari che purtroppo sono anche venuti a mancare di recente i ticinesi sanno farsi valere ed è vero che in quel momento lì vabbè mi ha telefonato un giornalista tra l'altro qualche tempo dopo mi fa ma avrei dovuto capire svizzero tedesco avrei dovuto capire che lei sarebbe diventato presidente dell'Udc perché Blogger dava proprio a lei quel piano segreto io non me lo ricorso il piano segreto non era proprio così la cosa però Marco Chiesa però appunto allora cinema cinema mettiamo altri chime questo spot pubblicitario insomma questa trovata così ironica un po' goliardica un po' goliardica cinema per cinema lei ha portato un film e un titolo e un po' mi ha sorpreso perché questo è un inno dell'anti istituzionalismo se vogliamo lei rappresenta le istituzioni vediamo qualche strato di questo film perché sono salito quassù chi indovina per sentirsi no grazie per aver partecipato sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù non vi ho convinti? venite a vedere voi stessi coraggio è proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva anche se può sembrarvi sciocco o assurdo ci dovete provare ecco quando leggete non considerate soltanto l'autore considerate quello che voi pensate figlioli dovete combattere per trovare la vostra voce più tardi cominciate a farlo più grosso è il rischio di non trovarla affatto però dice molti uomini hanno vita di quieta disperazione non vi rassegnate a questo ribellatevi non affogatevi nella pigrizia mentale guardatevi intorno ecco così bravo Prischi grazie sì osate cambiare cercate nuove strade cercate nuove strade Marco Chiesa perché l'attimo fuggente perché il tempo sfuggi perché il tempo scappa perché quello che non hai fatto ieri non potrai più riportarlo oppure rifarlo magari un domani forse non lo sai non lo sai io credo che le sfide le bisogna cogliere e credo che quello che abbiamo in cuore di fare bisogna farlo si può programmarlo ma non si può sempre procrastinarlo perché altrimenti perdiamo l'essenza della nostra vita e allora ci sono delle decisioni che vengono prese e devono essere prese abbiamo parlato prima di candidature abbiamo parlato prima non so di passioni beh facciamole non bisogna fare dei colpi non sto dicendo alle persone che bisogna fare dei colpi di testa però uno si gira e dice sono passati 50 anni e sai che cosa da come lo vedi lo vedi anche dal crescere dei tuoi figli che diventano sempre più indipendenti hanno delle esigenze che si modificano nel corso del tempo e tu quello che non hai fatto prima non potrai cambiare quello che è stato il tuo passato tanti incontri in 50 anni qual è l'incontro che forse l'ha segnata in modo particolare ma forse la dovrei sorprendere perché magari si aspetta qualcuno di istituzionale dalla regina del Belgio che ho trovato una persona estremamente misurata oppure dal presidente della banca mondiale ma l'incontro che mi ha colpito di più in assoluto è stato a Friborgo con un clochar e lo inserisca nella casella che vuole io non ne sto parlando di spiritualità ne sto parlando di un momento dove c'era un problema in famiglia dove mio padre ha dovuto subire un'operazione in quel momento era piuttosto complicato io mi recco fuori cantone perché dovevo andare un giorno fuori cantone mentre lui era ancora in cura intense ma è stato lungo tempo in cura intense lì incontro un clochar a una festa in mezzo alla popolazione dell'Udc mi ricordo ancora perfettamente dove era un posto dove c'ero stato io ho fatto l'università a Friborgo dove c'ero spesso mi si avvicina a questa persona comincia a parlarmi e mi dice in chiesa io conoscevo ho già sentito questo cognome ma una persona che giocava nel Lugano insieme a Prosperi Coduri Indemini Lutrop eccetera eccetera ho detto sì è mio papà e questo ha cominciato a raccontarmi un friborghese un bruchard comincia a parlare di mio papà e gli dico sì adesso è un momento di difficoltà e lui mi guarda e mi fa andrà tutto bene lo inserisca nella casella dove vuole lei anche chi ci sta vedendo e lei in quale casella l'ha inserita ma mi ha dato una grandissima serenità poi è andato tutto bene io lo dico ancora con molta con molta emozione come posso raccontarle altre cose assolutamente emozionanti ho pensato in questa discussione anche se toccare questo tasto con lei perché non ritengo che sia neanche una trasmissione politica perché altrimenti mi presenterei proprio per rispondere alle domande politiche invece se vogliamo scambiarci dei fatti di vita magari parliamo anche delle difficoltà che uno ha avuto nel corso della sua vita parliamo degli attacchi d'ansia che uno può subire e che uno ha subito che lei ha subito ma guardi io non ho mai pubblicizzato questa cosa ma forse può essere utile dirlo perché se l'ha superati il presidente deludici che è costantemente sotto pressione vuol dire che assolutamente ce la si può fare ce la si fa perché si cresce perché si matura perché si incontrano delle persone straordinarie nel corso della propria vita e perché poi dopo si diventa delle persone più solide dire queste cose non ha paura che possa giocarle contro alla partecipazione di un esecutivo che proprio a differenza dei legislativi a lei manca l'esperienza in esecutivo e chissà se sarà una carta poi per una poltrona in consiglio federale una carta strategica ma lasciamo lì e si vedrà e si vedrà un esecutivo cittadino è connotato proprio è legato a una real politica locale dove siamo magari più vincolati e meno liberi di poter esprimere la propria opinione le proprie idee la propria identità a me è mancato nel corso degli anni l'esecutivo io lo facevo nel privato l'ho sempre fatto nel privato perché sono stato 15 anni direttore di una struttura e lì si trattava di prendere le decisioni nel legislativo invece si fanno delle leggi oggi c'è forse la possibilità lo decideranno i cittadini eurganesi di fare qualche cosa e di decidere qualche cosa che poi dopo sarà di prospettiva e di futuro per la città di Lugano oppure anche solo per me stesso perché ci vivo e perché ci sono nato si vedrà poi come andrà a finire grazie Marco Chiesa per essere stato nostro ospite grazie anche a voi ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello specchio con un'altra storia da raccontare buona serata lo specchio con Dynoptic il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera grazie a tutti